Ci spostiamo a Subiaco, ospedale Angelucci di Subiaco, iniziati i lavori dell'elio superficie al via il cantiere per la realizzazione dell'elio superficie che servirà all'ospedale Angelucci di Subiaco. Una base di atterraggio per elicotteri di soccorso sarà posta all'ingresso del presidio ospedaliero, un con collegamento rapido al pronto soccorso anch'esso prossimo a lavori di riqualificazione. Questa volta la notizia è buona davvero, dopo tanta fatica, incontri, sopralluoghi, tavoli, finalmente si parte, l'elis superficie presso l'ospedale di Subiaco è in corso di costruzione e sarà una delle più belle del Lazio. Siamo consci delle problematiche che ancora insistono sul presidio ospedaliero di Subiaco e continuiamo a lavorare senza sosta per cercare soluzioni concrete. Queste le parole del sindaco di Subiaco, Francesco Pelliccia.